ben ritrovati a tutti voi come sempre una buonissima serata sono le 19 ed è davvero il momento di stare insieme qui ad angoli come primissima cosa lo faccio tutte le sere vi ricordo il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli chiocciola espansione tv punto it allora una puntata davvero molto particolare quella che stiamo per condividere insieme subito il nostro ospite saluto e ringrazio per essere tornato a trovarmi volentieri don giovanni ilia ciao don giovanni saluti e telespettatori buona serata allora ricordiamo intanto tu sei responsabile accoglienza basilica cattedrale di como di solito noi ci vediamo in corrispondenza delle varie date liturgiche importanti lo abbiamo fatto insomma nei mesi precedenti questa sera invece un'occasione particolare che tu gentilmente generosamente hai voluto condividere con e con gusto anche certo perché perché lunedì 11 febbraio cade un anniversario di una ricorrenza molto importante stiamo parlando del di un'apparizione mariana sicuramente la più la più seguita la più importante l'apparizione della madonna a l'urda quindi proprio di questo vogliamo parlare e non solo di questo perché poi ci saranno delle considerazioni insomma per avere un ventaglio un punto di vista più ampio ma partiamo quindi proprio da da questo accadimento siamo molto lontani nella storia siamo lontani ma 1858 cosa accade accade una cosa particolare una ragazza della bigor bernadette 14 anni da poco compiuti li aveva compiuti il 7 gennaio di quel 1858 e va a raccogliere legna con sua sorella tuanette un'amica jean abadi e la strada le conduce le porta fin dinanzi alla grotta di massabielle massabielle in francese vuol dire vecchia roccia era un attuito cochon cioè un riparo per maiali un luogo nel quale il gav con le sue piene lasciava deponeva legna ossa quello che a loro serviva per scaldarsi perché nel cammino non c'era più legna il fuoco non poteva più ardere quindi un momento di quotidianità di quotidianità di vita normale dove tra l'altro bernadette si trova più impedita delle altre perché all'asma al divieto della madre di bagnarsi questo le procurerebbe molte difficoltà di salute però lei comincia a togliersi i calzari avevano attraversato il canale del mulino di savi che proprio davanti alla grotta si ributta nel gav allora era così almeno adesso il gav è molto più spostato nel suo tratto nel suo percorso e lei comincia a togliersi i calzari è colpita da un primo soffio di vento guarda verso la prateria vede che gli alberi sono fermi continua a togliersi le calze è colpita da un secondo colpo di vento e a questo punto il suo sguardo si dirige alla grotta di massabielle lì vede un'immagine un'immagine che nella luce emerge ed è un'immagine ditida di una ragazza lei non dirà mai a nessuno io ho visto la madonna che cosa dirà dirà sempre vedo quella che sta là nel dialetto locale a che ro quella che sta là e inizia così un cammino di 18 incontri 18 incontri che culmineranno il 16 aprile di quell'anno il 16 luglio scusate di quell'anno che è la festa tra l'altro della madonna del carmelo ecco don giovanni voglio mettere in evidenza con te due aspetti che io trovo interessanti sui quali vorrei un po focalizzare anche la tua attenzione il primo è che bernadette di fatto era una ragazza comune come l'hai descritta non aveva grandi conoscenze di catechismo con i contenuti legati comunque a questi concetti aveva però un carattere molto forte del resto la sua salute cagionevole la combatteva quasi anche invece dannosi da fare facendo cose che la stessa madre come tu hai raccontato molto bene insomma avrebbe preferito lei non facesse in maniera così importante questi due aspetti che tipo di persona descrivono hai colto proprio il centro di bernadette intanto c'è una piccola premessa io credo che l'urde noi la capiamo se la affrontiamo con bernadette il rischio è quello di arrivare a l'urde solo perché ci sono state le apparizioni cosa sacrosanta c'è la madonna è il santuario più importante al mondo e certamente anche perché vede una presenza di circa 6 milioni di pellegrini all'anno quindi non sono poche le persone che vanno lì e l'aspetto che tu hai messo in luce no è proprio significativo però bisogna fare attenzione bernadette era ignorante non nel senso dell'eterio del termine ma perché non aveva potuto studiare intelligentissima sensibilissima immediatamente intuitiva non era una sognatrice questo è molto importante quindi molto concreta molto concreta molto immediata nell'andare alla grotta durante le apparizioni tornando una volta si accorse che gli avevano tagliato un pezzetto di velo il vero e il velo era l'unico copricapo che lei aveva adesso è esposto nell'anticamera del cascio all'urde e bernadette quando scoprì questa cosa non ebbe dubbi uscì con un'espressione che potrebbe sembrarci un po pesante sulla sua bocca ma disse sono proprio dei cretini quindi quindi il suo carattere forte un carattere che faceva uscire un carattere anche determinato questo lo si scoprirà soprattutto nei 13 anni trascorsi a never lei ci arriverà nel 1866 quindi otto anni dopo le apparizioni e morirà il 16 aprile del 1879 quindi questa sua concretezza questo suo pragmatismo l'intuizione e l'apertura anche a leggere probabilmente i messaggi rende fortemente credo almeno io lo dico poi chiedo a te se è vero fortemente affascinante questo incontro ma molto affascinante diciamo così per due aspetti il primo noi siamo abituati a vedere la madonna che sta là nella grotta in quella nicchia in quell'incavo che si è creato in realtà la madonna la incontrava nella grotta passeggiavano insieme dialogavano si sorridevano si parlavano queste cose giovani allora il punto è proprio questo le persone che questa sera come sempre accade dal lunedì al venerdì stanno seguendo angoli ovviamente qualcuno di loro conoscerà questa storia la condivide la apprezzerà alcuni crederanno altri no quindi come facciamo a far arrivare questa immagine di di bernadette della madonna che passeggiano insieme e si diranno anche delle cose certo sono stati 18 incontri di amicizia quelli avvenuti alla grotta di massabielle e specifico un aspetto che prima abbiamo tralasciato non sono molti i messaggi che vengono dati diciamo così per la chiesa si possono ridurre semplicemente ad alcuni passaggi un massimo di 45 apparizioni ma quello che è avvenuto costantemente in questi 18 incontri è stato proprio un rapporto a tu per tu dove bernadette ha avuto nella madonna possiamo dire la sua catechista quindi ha colmato quelle lacune delle quali abbiamo parlato inizio della chiacchierata certo e si è convinta anche probabilmente come ognuno di noi potrebbe convincersi è stato un cammino di crescita è stato un cammino dove entrambe si sono parlate si sono donate vicendevolmente e questo allora il percorso della fede avere questi incontri continui ripetuti con la fede per convincersi strada facendo per ci sia il contenuto un proprio cammino vorrei con te don giovanni fare anche un po il punto sul momento storico come abbiamo detto siamo nel 1858 la francia si trova anche politicamente e storicamente in un momento particolare questo non è da trascurare no se siamo ormai alla terza repubblica se la memoria non mi inganna del tutto in un momento anche difficile c'è napoleone terzo che sta governando la francia e c'è una situazione netta di contrasto tra una visione di fede e una visione politica fine 1800 vede di fatto la massoneria governare un po in tutti quelli che sono gli stati nazionali europei se pensiamo una vicenda abbastanza vicina seppure spostata un po più in là basta pensare a fatima e alla vicenda del portogallo come tale ma indubbiamente bernadette si trova sotto la pressione di tutti coloro che indagano intorno a lei viene anche arrestata durante le apparizioni difatti il 22 di febbraio non ci sarà apparizione neanche il 26 di febbraio ci sarà apparizione perché nel primo caso e lei tratta in arresto nel secondo caso perché avevano sporcato lordato tutta la grotta e però quello che la fa soffrire non sarà tanto l'essere stata arrestata ma che quanto non avere avuto l'incontro quindi diventa una necessità per lei diventa una realtà decisiva perché non era stabilito un orario in cui dovessero trovarsi alla grotta lei andava alla grotta perché si sentiva interiormente chiamata e siccome il 18 febbraio terza apparizione ha ricevuto quel primo messaggio fondamentale volete farmi la grazia di venire qui per 15 giorni quei 15 giorni finivano il 4 marzo e il 4 marzo sarà per lei una giornata tristissima perché tutto finisce e la signora a che ro quella la non ha detto niente e ci fermiamo proprio qui perché da qui in poi andremo davvero tutta in un'altra storia e lo facciamo tra pochissimo sempre ad angoli restate e siamo ritornati nello studio di angoli grazie ancora per essere mia compagnia vi ricordo brevissimamente l'indirizzo di post angoli chioccio la espansione tv punto it e vi ripresento il nostro ospite di questa sera don giovanni ilia eccoci qui grazie per essere ancora qui con noi perché ci sono ancora tantissime cose da dire abbiamo appunto fatto riferimento storico la data dell'11 febbraio 1858 quando ci fu l'apparizione la prima apparizione all'urde ma mi domando se la signora si fosse proposta a personaggi magari tra virgolette più credibili figure politiche non è mai apparsa a un papa a un presidente farebbe cambiato qualcosa o forse giusto così ma le scelte di dio sono sempre non del tutto percepibili secondo una nostra misura evidentemente la madonna ha scelto questa ragazza forse a volte di bernadette si sottolinea molto l'aspetto più negativo di malattia di povertà no in realtà bernadette ha un cuore una semplicità una rettitudine di vita una chiarezza un'onestà che diventano indubbiamente appetibili per la madonna quando vuole farci sapere qualche cosa no e poi bisogna anche tener conto che nella storia anche qualche potente ha avuto delle visite particolari però forse non sempre ha ascoltato o ha avuto dei messaggi che non sempre ha ricevuto penso alla conclusione del messaggio della salette che era diretta appunto ai governanti di francia un messaggio disatteso insomma certo tu giovanni maria e la donna dell'apocalisse anche nelle immagini viene rappresentata comunque come colei che schiaccia col piede la testa di un serpente che ovviamente rappresenta qualche cosa di cui vorrei tu mi parlassi anche gesù nel momento in cui si fa uomo e quindi viene narrato nei vangeli ha confronto con l'altra faccia della medaglia quale certo e beh quella del demonio indubbiamente ma qui è bello ripartire dal 25 marzo 1858 no Bernadette svegliata di soprassalto al mattino presto e sente il desiderio della grotta e quindi esce di corsa va in chiesa prende la candela è ancora buio e va verso la grotta era tenuta un po sotto controllo Bernadette perché questo gesto era quello che lei faceva sempre quando andava alla grotta la prima cosa era passare dalla chiesa parocchiale prendere una candela che poi lei lasciava davanti alla grotta ed è il motivo per cui noi ancora oggi davanti alla grotta vediamo quelle candele che ardono che brillano no ebbene Bernadette arriva 25 marzo ed è la madonna ad attenderla per quattro volte le chiede il nome alla quarta richiesta a che ro finalmente risponde dice io sono l'immacolata concezione a me piace pensare tradurre un po questa espressione lo faccio frequentemente per i pellegrini a l'urda io sono il paradiso è chiaro che maria come gesù cristo si contrappongono o meglio mettono poi in luce l'opera negativa di qualcun altro che ha giocato male la sua libertà e non ha accettato l'opera di dio il demonio certo ecco questo qualcun altro che definiamo comunemente il demonio chi è o che cos'è o che sensazione perché poi alla fine insomma le sfumature sono particolari dobbiamo togliere tutte le sfumature e dire che il demonio è un essere personale spirituale è un angelo che si è ribellato al disegno all'opera di dio e vuole trascinare l'uomo dentro questo rifiuto questo allontanamento da dio questo ci mette davanti però ad alcune considerazioni che dobbiamo fare con molta semplicità e chiarezza quali la prima non esiste un principio del bene e un principio del male ricadremmo nella filosofia manicheista non il caso di riesumare queste cose esiste il fatto che dio ha creato tutte le cose non entro adesso nella creatio ex nilo che ci porterebbe lontano ma dio ha creato tutto per il bene tutto nella luce no lo dice il libro della sapienza lo ribadisce paolo nella lettera ai romani no chiaramente il demonio il diavolo satana che cosa ha fatto a me piace molto la lettura che fa Ireneo di Lione siamo il primo grande possiamo dire teologo sistematico cioè che ha messo dentro una visione d'insieme tutte le verità di fede no e proprio rifacendosi un po l'apocalisse dopo eventualmente ci ritorniamo lui dice che il demonio non ha accettato questo angelo di luce lucifero non ha accettato una cosa molto semplice che l'uomo gli passasse avanti e quindi cosa ha fatto ha fatto in modo che l'uomo stesso rifiutasse dio quindi un tentativo di rivalsa laddove lui è stato messo in ombra esatto perché l'uomo appare già con un privilegio particolare rispetto a quello che il mondo angelico quindi questo ce lo dobbiamo ricordare molto bene perché ci mette in una posizione davvero di privilegio davvero di privilegio anche perché bisognerebbe fare una certa riflessione di teologia ma non ne abbiamo il tempo certo quello che mi preme sottolineare è semplicemente questa cosa che il demonio agisce cercando di coinvolgere l'uomo e quindi non lo coinvolge tanto perché lui è l'essenza del male è il principio del male dal punto di vista sostanziale come se questo potesse contrapporsi al bene con la stessa forza e con le stesse possibilità qui dici non esiste il bene nel male stacchiamoci da questo pensiero esiste il male ma esiste il male in quanto è frutto di una libertà e di una volontà che è scelta di contrapposizione a dio questo l'ha fatto il demonio e questo il demonio vuole che arriviamo a farlo anche noi ma possiamo scegliere possiamo scegliere però mi piace ricordare qui ed è lasciata tutta la nostra libertà sant'ignazio di loiola nei suoi esercizi spirituali ha un'affermazione molto bella sulla quale forse si riflette poco no ignazio era ancora un medievale quindi queste cose ce le aveva ben presenti lui quando descrive il demonio usa questa espressione il mortale nemico della natura umana avesse detto il mortale nemico della fede il mortale nemico di dio il mortale nemico della vita spirituale avrebbe innalzato invece no mortale nemico della natura umana vuol dire che quello che lui ha in mente è la nostra distruzione non gli basta che noi sbagliamo semplicemente vuole portarci a un segno di vita a una scelta di vita a un operare che è contro dio quindi contro noi stessi ma tornando all'argomento di partenza della nostra serata cioè la figura della madonna ovviamente ci siamo rifatti a questa occasione dell'apparizione ma ma la madonna è sempre con noi quindi partiamo da lì ed è sempre con noi anche nei momenti in cui c'è questa difficoltà c'è questo traballare della nostra capacità di scegliere la via migliore per noi e per l'umanità intera e in questi momenti mi risulta e poi poi giro la palla a te che sei appunto l'esperto che la figura della madonna sia quella che ci porta fuori da questo inganno perché è lei che si invoca anche in determinati momenti particolari che io non voglio nominare perché non sono degna di farlo quindi dillo tu eventualmente se lo puoi dire la cosa è significativa era un po quella che dicevi prima no per inquadrare una risposta che abbia un vero significato e valore e cioè l'apocalisse di per sé non parla della madonna però ne parla pure perché i padri della chiesa hanno sempre letto i testi sacri con questa attenzione quando parlano della chiesa parlano della madonna quando parlano della madonna parlano della chiesa per cui una figura direi intescambiabile diciamo così ora mi viene in mente quello che è capitato in un monastero è un fatto notificato registrato paredemoniale santa margherita maria la coc siamo indietro qualche secolo e avviene un terremoto delle urla delle cose sconvolgenti in quel monastero le monache sono tutte impaurite e sentono chiaramente una voce che dice vi avrei già completamente stravolte se non ci fosse colei che vi difende quindi chiaramente l'opera di satana vede come contrapposizione diretta immediata la presenza di maria noi non a caso la chiamiamo immacolata concezione la madonna è nata libera dalla colpa del peccato originale la sua concezione non la vista segnata da questa realtà no e quindi è la donna senza peccato è la donna che nella sua libertà è capace di scegliere unicamente per dio ecco senti stiamo quasi per arrivare ai saluti io vorrei almeno altre due ore a disposizione perché c'è tantissimo da dire ma non è escluso che ci torneremo persino dei santi padre pio e altri sono stati tentati e si sono confrontati nella loro vita con il demonio avevano sicuramente più carte più forza di noi insomma uomini e donne di tutti i giorni quindi come facciamo io credo che qui dobbiamo essere molto sereni e molto immediati noi sappiamo che il demonio gioca con la nostra libertà e con la nostra volontà non può togliercela neanche quando avvenisse la possessione diabolica esiste esiste e manco quando avvenisse quello ci è tolto radicalmente la possibilità di capire di comprendere una cosa bellissima che mi diceva un esorcista una volta è legata a questo sapessi la gioia di queste persone quando si sentono finalmente liberate quindi c'è un percorso di ritorno da questa situazione c'è una cura c'è un accompagnamento ma quello su cui voglio ritornare è proprio la domanda il demonio non ha nessun potere su di noi può disturbarci può infastidirci può farci sbagliare ma abbiamo la grazia dei sacramenti la grazia della parola di dio la grazia della chiesa siamo dentro quello che è l'opera compiuta da gesù cristo quindi non non deve farci paura la sua presenza né intimorirci la sua azione abbiamo detto prima lui cerca di trascinarci dentro il suo sentire il suo volere ma quando noi siamo capaci di cercare il bene così come risplende agli occhi di dio e possiamo arrivarci con la ragione una delle cose più belle che c'è negli esercizi spirituali di sant'ignazio è questa grande fiducia nella ragione e nella volontà umana questo è davvero rassicurante il signore ci ha fatti bene siamo noi che facilmente andiamo fuori strada ma possiamo ritrovare la strada giusta e questa è davvero la conclusione che ci rende insomma più forti io ringrazio don giovanni ilia per essere stato qui questa sera per aver affrontato questo argomento delicato in una maniera molto chiara e molto razionale quindi grazie grazie a te dolores grazie telespettatori bene grazie anche a voi ma prima di salutarci brevemente vi raccordo vi ricordo un appuntamento importante sabato 9 febbraio sarà la giornata di raccolta del farmaco ecco la locandina tantissime le farmacie a disposizione semplicemente le potete individuare appunto con questa locandina esposta ed è un gesto davvero importante perché non si debba scegliere tra mangiare e curarsi questo è davvero tutto per questa serata ad angoli ci vediamo domani grazie per restati con me c'è l'informazione grazie a tutti grazie a tutti